Girls while the girls watch the boys or watch the girls go by Eye to eye They solemnly convene to make the scene Which is the name of the game Watch a guy or watch a dame on any street in town Up and down Anna Farchi da produttrice Chi sceglierebbe adesso come attori in una prossima produzione? Sinceramente in Italia avevamo un piccolo difetto Che è quello di chiamare un po' gli stessi attori Andando molto sul sicuro Siccome si fanno pochi film Tendenzialmente si chiamano quelli che hanno dato dei risultati Poi al bottiglino Quindi appunterei invece proprio sui giovani Per dare finalmente la possibilità A questi di perseguire un percorso Che si sono prefissati di fare Quindi prenderei magari dal centro sperimentale Visto che comunque è anche uno dei nostri partner Qui a Cortina a metraggio Facendo proprio dei provini Come è giusto che sia Per dare la possibilità appunto Al persone di intraprendere finalmente Una carriera a tutti gli effetti Lei qui a Cortina a metraggio è in giuria Chi ha visto di così interessante Che prenderebbe subito? Beh c'è un attore Con cui ho avuto modo di lavorare Da produttrice Che è Nicolo Senni Che è uno dei protagonisti di un corto Qui quest'anno E punterei a lui Anziché come co-protagonista Come spalla Come spesso è accaduto Come vero e proprio protagonista Perché se lo merita Anna tutto il meglio Grazie E alla prossima Ciao Allo stadio del ghiaccio They solemnly convene To make the scene Which is the name of the game Watch a guy or watch a dame On any street in town Up and down And over and down And over and down